Verso la fine di febbraio è morto Scott Murray da allora tanti di voi mi hanno chiesto di parlarne, in qualche modo di fare un video di sensibilizzare su diversi argomenti che possono nascere da questo evento, da questa tragedia è complesso, è molto lontano da questo canale però avendo ricevuto richieste anche in questi ultimi giorni credo possano esserci delle analisi interessanti che possono essere condivise o quantomeno delle considerazioni che vengono da questo evento Scott è morto per arresto cardiaco, era uno youtuber molto simpatico di cui avevo visto forse uno o due video, non di più perché non è il mio genere però era sicuramente molto simpatico tra l'altro con origini italiane la cosa di cui non mi ero reso conto è che sostanzialmente aveva portato il suo corpo a un limite estremo di BF parliamo di una BF da gara, da gara preparata anche bene non gareggiava che io sappia, non era un bodybuilder, era più un fitness influencer il discorso è che manteneva questo livello per anni, ha mantenuto questo livello per anni a un certo punto il cuore non ha più retto la considerazione che mi viene riguarda l'impatto che ha in qualche modo l'immagine sui social o comunque lo stereotipo che emerge dai social su di noi un impatto che ci porta in questo caso per ragioni che sicuramente sono non superficiali perché se si arriva a questo punto ci sono trigger che sono ben radicati nella persona e sicuramente non è mio compito o mia intenzione andare ad indagare esattamente sull'aspetto psicologico che ha portato Scott a comportarsi in questo modo comunque a arrivare fino a questo punto però in generale un impatto lo abbiamo tutti sul modello di Instagram c'era una frase carina che ho letto un po' di tempo fa che diceva noi tendiamo a paragonare il meglio di alcune persone quindi il top di alcune persone con il nostro standard cioè l'esempio classico è vado su Instagram vedo la foto dell'atleta che si è appena allenato, sta in pump, sta in top condition magari ha fatto una scarica, magari sta in preparazione o comunque è un momento, e lo dico da influencer e me ne rendo conto è un momento non scelto a casa, ma un momento in cui si vede particolarmente bene va, trova delle luci ideali, fa una foto, aggiusta magari la luce, la nitidezza, quel che è e la pubblica peraltro magari in posa, quindi in pose specifiche aggiustandosi i vestiti in modo da coprire alcune zone abbiamo una top condition, in qualche modo un top in quel momento, in quel contesto che la persona vuole presentare vuole presentare al mondo, vuole esternalizzare noi la vediamo, poi ci guardiamo allo specchio e vediamo il nostro standard momento qualsiasi, non siamo in pump ma l'abbiamo appena mangiato quindi abbiamo la fancia, siamo seduti in qualche modo e ci scoraggia come cosa ha sempre stato in grado questo meccanismo di scoraggiarci almeno a me è sempre stato in grado la cosa che mi incoraggio è il fatto che in realtà poi, allenandomi quasi tutti i giorni meno male, mi vedo sempre in palestra e ho i miei piccoli momenti di top condition a un certo punto mi rendo conto anche di come sono e soprattutto vedendo e stando in un contesto in cui vedo molti professionisti che seguo su Instagram li vedo poi in palestra li vedo nel loro standard e nel loro momento top e riesco a paragonare e mi sento un po' più normale, li vedo un po' più normali però questa è la situazione in cui noi ricadiamo sempre ci compariamo sempre a questo standard quindi questa è la prima considerazione noi compariamo il top di qualche persona al nostro standard è una cosa che per logica di cose ci devasta la seconda considerazione invece riguarda tutto il discorso relativo al body shaming ora sul body shaming ha parlato qualche anno fa ha fatto delle storie veramente interessanti e sta continuando a portare in maniera diretta o indiretta questo messaggio vale ricasto e ha fatto degli spunti molto interessanti ha fatto molta sensibilizzazione all'argomento un argomento che io per primo ho sottovalutato per tanto tempo ma che ho ritrovato a potenziare veramente tanto nel momento in cui ci siamo trasferiti qua in Inghilterra perché abbiamo visto e abbiamo toccato la differenza che c'è tra due culture qua in Inghilterra il body shaming non dico che non esiste però è socialmente condannato è un qualcosa non soltanto di molto grave ma è un qualcosa di difficile concezione cioè è inconcepibile per molte persone il discorso del body shaming soprattutto quando è gratuito totalmente esce esce dal nulla e abbiamo visto come realmente è un qualcosa che si applica molto all'universo femminile purtroppo probabilmente c'è una maggiore vulnerabilità delle donne per questioni magari anche culturali ne sono anche più vittime però colpisce anche gli uomini abbiamo visto come c'è una diversità di comportamento a partire da quello che succede in palestra nel senso che parlando di bodybuilding perché questo è quello che facciamo questo è quello che faccio sono preparatore di bodybuilding le atlete qua in Inghilterra fanno off-season vere e proprie cioè off-season in cui tornano a BF fisiologiche che non sono BF 6 grafsa sono BF fisiologiche in cui stanno bene il ciclo torna il ciclo è regolare in off-season anche in periodi di preparazione al massimo salta soltanto alla fine quando la BF è estrema però il corpo ha una migliore adattabilità le donne sono in salute le donne vanno in sala e si allenano veramente intensamente si allenano veramente bene perché hanno una base calorica molto importante e non è che vengono in sala super coperte perché si vergognano magari arrivano coperte però nel momento in cui hanno caldo boom si tolgono i vestiti rimangono con lo sport bra e i leggings i leggings corti non hanno problemi di genere e sono molto più libere sono molto più spensierate questo è un qualcosa che bene o male si può percepire si può toccare rispetto a quello che è l'ambiente italiano quindi c'è un primo beneficio importantissimo per proprio le atlete un beneficio palpabile di nuovo altre considerazioni sul body shaming che è una tematica un po' calda e molto spinosa da trattare però se ne siete vittime o se ne siete state vittime vi invito a riflettere su un discorso ossia voi immaginatevi di aprire il vostro instagram vedere una persona che è non lo so grassoccia ha un naso brutto ha degli occhi strabici ha i capelli particolari è un po' troppo magra quello che vi pare ok vedere questa persona da nulla andare sotto iniziare a digitare scrivendo degli insulti su questo difetto con cattiveria non sono delle osservazioni o comunque fatte per provocare premere invio inviare oppure peggio fare uno screen evidenziare l'immagine postarla nelle storie e fare delle storie in cui ne parlate e insultate questa persona figuratevi di farlo quant'è distante questo comportamento quant'è strano quant'è oddio non mi ritroverai mai a farlo è la sensazione che dovreste avere cioè non vi ritrovereste mai a fare una cosa del genere quindi che valutazione potete avere di una persona che lo fa che valore date alla persona che sta facendo questa cosa che vi sta insultando gratuitamente che giudizio date voi a loro quindi non mettetevi dalla parte semplicemente di chi riceve mettetevi per un attimo dalla parte di chi lo fa cosa può spingere quale disagio interiore quale insoddisfazione interiore può spingere una persona ad insultarvi gratuitamente diamo un peso così importante a singoli commenti perché ci toccano con cattiveria e risaltano rispetto alla media di commenti positivi che riceviamo questa è la verità diamo attenzione semplicemente perché è una cosa totalmente atipica una cosa diversa dagli altri commenti una cosa che voi non fareste per primo ma allora perché gli diamo peso semplicemente per questo perché è atipica perché calza all'occhio ripeto immaginatevi che disagio che insoddisfazione personale può avere una persona che impiega il suo tempo nel fare un qualcosa del genere in maniera gratuita semplicemente per cattiveria se per un attimo ci fermassimo a ragionare su questa concezione proveremmo in qualche modo pietà perché questo dovremmo provare quanto sei triste non dovrebbe essere veramente questo so che è una frase scontata però pensateci quanto sei triste cioè quanto mi farei schifo da solo se mi mettessi a fare una cosa del genere mi sentirei veramente insignificante e triste quindi mi spiace mi spiace per te semplicemente e altra considerazione sempre collegata a questi commenti è che noi è paradossale ma diamo così tanto potere a un commento fatto con cattiveria quindi è un commento che è volutamente esagerato cioè ho un po' di fianchetti per dire ho una bf bassa alla fine dell'off season io faccio esempi relativi al bodybuilding perché è quel che faccio di nuovo e mi viene fatto notare in maniera cattiva quindi logicamente è un commento che è esagerato un commento che vuole essere punitivo nei miei confronti vuole provocarmi io gli do tanta importanza come se fosse una cosa vera oggettiva e di nuovo sicuramente è perché tocca una mia vulnerabilità tocca un mio trigger però allo stesso modo quanta meno importanza darei a un commento fatto con gentilezza anche semplicemente magari sono un neofita e una persona molto più esperta un preparatore mi dice guarda Ludo la condizione è ottima però la bf è un po' troppo alta per la fine dell'off season la prossima volta cerca di tenerla sotto controllo mi stanno dicendo la stessa cosa solo che da una parte mi fanno un commento con la voglia di farmi del male quindi è un commento che di per sé è spropositato rispetto alla realtà dall'altra lo fanno con la voglia di farmi del bene quindi è un commento che di per sé è anche un po' depotenziato rispetto alla realtà dovrei prendermela di più per il secondo commento dovrei sentirmi cavolo cioè mi vuole fare del bene però me lo fa notare quindi sono veramente troppo grasso alla fine dell'off season eppure no eppure do sempre più importanza al commento che mi vuole fare del male di nuovo perché tocca il mio trigger e il punto è che gli do importanza perché è atipico perché è cattivo ed è una cosa così distante da me che non possono dargli importanza però do più importanza al fatto che è distante da me che al commento intrinseco di per sé perché mi viene spattellato perché è una cosa che viene fatta per aggredirmi perché mi sento violentato mi sento aggredito in una mia sfera personale e di nuovo l'ultima cosa che vi dico è che qua è inconcepibile noi quando sono successe alcune cose magari succedevano in Italia dissing che vedevamo e cose del genere quando lo raccontavamo qua ai nostri amici a cena e cose del genere loro ci guardavano spaisati cercando di capire se noi parlavamo così male l'inglese da non riuscire a spiegare e l'unica cosa che riuscivano a dire sempre sempre era why perché perché devi fare una cosa del genere perché devi fare body shaming e è veramente questo perché perché devi farlo è assurdo e di nuovo stiamo dando troppo peso al fatto che è distante da noi piuttosto che al commento di per sé poi altre considerazioni di nuovo riguardo a questo settore questo settore che in qualche modo ci distrugge da qualche parte ci consuma quando ci siamo troppo dentro riguarda il body positive quindi abbiamo questo body shaming da una parte e in qualche modo come risposta abbiamo il concetto e la corrente del body positive che dal mio punto di vista può essere anche più deleteria o più pericolosa in qualche modo il body positive sostanzialmente è il concetto per riassumere per come viene portato avanti meno male da alcune persone è il concetto di accettare il proprio corpo accettare ed amare il proprio corpo qualunque esso sia e anche là mentre il body shaming mi impone e mi condanna perché non sono come un certo stereotipo il body positive sostanzialmente mi condanna perché voglio avvicinarmi a un certo stereotipo cazzo io ho la libertà di fare quello che voglio del mio corpo non puoi dirmi se mi può piacere o non mi può piacere e anche qua una serie di considerazioni che nascono perché si parla tanto e si sta parlando tanto di questo body positive e stando nel campo del body building è un qualcosa che ci tocca direttamente body positive che viene portato avanti da modelli o modelle che dio santo a me sta tanto di presa per il culo sono sincero cioè che tu mi fai vedere un modello che ha è pieno di lentiggini ma per il resto è ignocco è alto c'è un fisico della madonna c'ha dei capelli bellissimi c'ha degli occhi pazzeschi che cosa mi stai rappresentando è pieno di lentiggini ok un singolo difetto su una base perfetta non è comunque niente di raggiungibile lo stesso cosa la modella fantastica bellissima alta corpo da urlo occhi mozzafiato da gatta e c'ha i denti un po' separati che cosa mi stai rappresentando è comunque un modello irraggiungibile e poi logicamente c'è tutto il discorso delle modelle curvi che sono delle modelle che vengono photoshoppate pesantemente nella maggior parte dei casi che sono comunque stradosferiche sono bellissime quindi magari potresti perdere 10 kg ma sei comunque uno schianto quindi non mi rappresenta granché il fatto che ti si faccia vedere e anche un'altra considerazione che viene riguardo a tutto questo discorso è che queste modelle sono non voglio fare un discorso generale però il meccanismo è che sono semplicemente delle persone che fino a 10 anni fa 20 anni fa sarebbero state escluse da un settore che è quello della moda che loro condannano e che semplicemente hanno trovato il modo di inserirvisi quindi condanni un settore in realtà sei schiava o schiavo di quel settore sei alla mercè dello stesso settore che tu combatti o condanni non stai portando realmente nessuna ventata di fresco nessuna novità è ipocrisia perché comunque è un tipo di stereotipo un qualcosa di irraggiungibile la moda deve andare dove deve andare va bene che ci siano dei tagli curvi va bene sicuramente questi progressi però non deve sfociare nel concetto body positive sei curvi e ti devi piacere no al cazzo io sono curvi ho il diritto di piacermi ho il diritto di non piacermi ho il diritto domani di decidere mettermi a fare una dieta e dimagrire perché voglio essere magra o magro punto io sono come sono posso decidere di mantenermi così e va benissimo posso decidere di migliorare o cambiare e va bene allo stesso modo posso fare quello che voglio di me stesso e nessuno nessuno può giudicare me nessuno può giudicare chi sono i miei difetti i miei pregi soltanto io sono l'unico giudice di me stesso voi siete gli unici giudici gli unici alla fine perché le uniche persone a cui dovrete rendere conto alla fine dei giochi alla fine di un cambiamento alla fine di un periodo quando maturerete quando chiuderete il vostro profilo instagram le uniche siete voi perché vi guarderete allo specchio e tirerete i conti e se avete sacrificato il vostro io il vostro essere perché un coglione vi scrive su instagram che siete grasse magre con i capelli blu o quello che vi pare allora dovrete rendere conto a voi e vi maledirete per questo quindi che consigli dare sicuramente non sono la persona più indicata per dare consigli però la cosa che mi viene in mente è una parola una che dobbiamo stamparci qua in fronte che è depotenziare depotenziamo l'aspetto estetico depotenziamo la nostra copertina depotenziamo il giudizio altrui noi non siamo singole sfaccettature noi non siamo un occhio strabico non siamo un naso aquilino non siamo delle labbra piccole non siamo troppe lentigi non siamo acne sul viso non siamo capelli ricci piuttosto che lisci piuttosto che senza capelli non siamo bf troppo alta o troppo bassa noi non siamo questo noi siamo una serie infinita di sfaccettature una serie infinita di tratti di personalità una serie infinita di io che ci governano che stanno all'interno che stanno in conflitto tra di loro che trovano un'unica direzione alla fine siamo un mosaico un insieme di sfaccettature che coesistono e convivono e andare a identificarci in un unico singolo commento su un unico singolo tratto è da stupidi è da stupidi perché vuol dire che non valete assolutamente niente vuol dire che valete tanto quanto un granello di polvere quando avete l'intero universo dentro di voi quindi depotenziate depotenziate tutto quanto depotenziate ogni forma di giudizio depotenziate ogni singola caratteristica e guardate sempre all'insieme guardate sempre al vostro io e ritrovate pace nel vostro io nella vostra individualità perché è vostra idea unica e questa sia la cosa più preziosa che abbiamo e che ci rende veramente belli grazie a tutti grazie a tutti